Venerdì sera Papa Francesco ha ricevuto la Presidente del Brasile, la signora Dilma Rousseff, giunta a Roma per essere presente al concistoro. Al termine del colloquio il Papa ha salutato la delegazione che accompagnava la signora Presidente e ha avuto luogo lo scambio dei doni. La Presidente Rousseff, con evidente riferimento alla prossima Coppa del Mondo di Calcio in Brasile, ha donato al Papa una maglia della Nazionale e un pallone firmati da alcuni calciatori. Il Santo Padre a sua volta ha donato un artistico medaglione raffigurante l'Angelo della Pace. Il Santo Padre a sua volta ha avuto luogo lo scambio dei doni.